Ciao a tutti e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di questa nuovissima serie Clash of Clans me lo avete chiesto in tantissimi da secoli e finalmente eccolo qua sul mio canale ho chiamato Bluestarks che è l'applicazione che ti permette di farlo girare sul computer ce l'ho qui a schermo intero bava bestia e quindi iniziamo subito allora vedete c'è sta gentil signora qui con i capelli rossi e gli occhi azzurri con boh migidiale tra l'altro che mi dice ciao ciao ti diamo il benvenuto capo ti stavo aspettando con ansia se questo è il tuo nuovo villaggio bello vero mas ma vaffan bene cos'è questo un altro umano mingerlino ok ho capito che sono mago ma guarda che mangio come una bestia io lascia stare oh no lorda di goblin presto piazziamo un cannone per difendere il villaggio presto un cannone per il cannone dove piazzio vabbè tu mettilo e basta completa ma perchè devo spendere le gemme va che io sono tirchio eh va che io sono molto tirchio questo no non la uso non la uso ah non la uso oh oh eccoli urda di goblin all'attacco urda di goblin ah boh sono due goblin picchiali 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 va che è lento come una merda sto cannone bella lì ci hai mancato poco grazie capo abbiamo costruito il villaggio su una falla sotterranea ciò significa che il cannone ce li prenda da solo con il passare del tempo va buona i saluti del torno sono venuti di nostro aiuto distruggiamo l'accampamento delle goblin attacco fa chi è il primo attacco della serie signore e signori ok devo va sganciali tutti sganciali qui lo sganciate tutti lo sganciate tutte 50% signore e signori oh fuck yeah primo attacco proprio la bestia 500 monete 500 delisire e torniamo al villaggio perchè noi possiamo perchè noi valiamo wow bella partenza adesso dobbiamo preparare il villaggio per le battaglie sei troppo eccitata amica mia assumendo un altro costruttore potrai avviare una o due costruzioni contemporaneamente fighissimo dammi vai costruisci ah l'elisire è fondamentale per addestrare le truppe e costruire molte strutture puoi pompare eh ah ok puoi pompare l'elisire della falda sotterranea proviamo se lo dici te a me va bene ma mettilo qua no che c'è la roba aspetta non posso levarla a sta roba ah ecco eh che sennò era bruttino va così bellino eh sono a tirchio eccoci qua l'estattore può controllare solo una piccola quantità di elisire costruiamo un deposito ma tu mi vuoi far usare quanti mille mila robe un altro minuto va bene pietra 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 non clicco non clicco perchè mi ha dimezzato mi ha dimezzato le cose ce ne erano 500 prima le ho viste ce ne erano 500 tu bugiardo infame chi cazzo mi ha rubato le gemme pietra picchio tutte le picchio ci serve anche un luogo sicuro dove conservare le nostre eserbe d'oro ma c'hai pure scassato di guglioni c'hai scassato amica mia ce l'ho scassato malamente e va a far culo oro noi goblin adoriamo l'oro e tu mamma anche capo ci serve un esercito per combattere i goblin costruiamo una caserma caserma e va boh managgia vai devo farne 20 vai giù di barbari perchè devo consumare così una roba ben fatto andiamo a prendere a pugni qualche muso verde c'hai ragione attacca sti cani attaccali tutti allora io odiai di essere pro e li vediamo tutti qua vicino andiamo un po' qua un po' qui un po' qui e si signori e signori e si pesi e si pesi levo squisi e si pesi levo squisi e si pesi levo squisi che mai è marcio sto limone povero eh torna il villaggio è stata una battaglia grandiosa bam come potremmo commemorarti nella nostra storia mi chiamo SURREAL POWER con l'oro che abbiamo preso ai goblin possiamo migliorare il municipio e ma porca è sempre migliorare qua migliora migliora ottimo lavoro ora puoi costruire nuovi edifici grazie al municipio migliorato se cerchi nuove sfide tocca qui e te accontenterò tocca qui e te accontenterò si gentilmente battene anche un po' a fanculo ah no devo cliccare per forza ah oh ma che dai sti versi cose più casse più grandi sempre lì sempre cose più grandi vuole questa peggio cosa quanti cazzo ce ne sono? e vabbò capo ovviamente sai il fatto tuo tutto il villaggio conta su di te ok quindi abbiamo già tutto pieno mi prendi per culo ma quante gemme ci devo spendere? ma quanto costa una gemma? e la manana allora per concludere questo episodio direi che andiamo ad attaccare il prossimo avamposto goblin sperando di farcela con 20 barbari e dove sono le difese? ah cattroia allora direi li ho finiti cattroia mi sta massacrando ma no vai ma cattroia fuck yeah bitches fuck yeah fuck yeah se vuoi un altro episodio di questa serie lascia mi piace lascia mi piace perchè questa è una scommessa non so se vi piace o non vi piace questa serie quindi fatemi sapere se vi piace questo video e niente io vi saluto vi ringrazio tantissimo per il bisogno e passate anche per la pagina facebook che trovate in descrizione ciao a tutti a tutti ciao a tutti